Clamoroso, questa è una breaking news, eccola qui, ufficiale, cancellata, l'amichevole Juventus Barcellona, eccola, dal tutto sport, io credevo francamente Ezio fosse una bufala, in realtà non è così, è stata proprio cancellata e quindi dobbiamo, come dire, il motivo è singolare, prego Ezio, buona giornata, intanto buonasera a tutti, no no, è vero, a Santa Clara è successa una cosa più unica e forse durante la stagione non sarà nemmeno rara perché allora la motivazione vera è che la rosa del Barcellona, insomma gran parte della rosa del Barcellona è stata colta ed è affetta da gastroenterite virale, per cui hanno tantissimi giocatori KO, questa è la motivazione ufficiale, passa sul sito del sodalizio Blaugrana, in realtà io sono un mal pensante, ho creduto Massimo che in qualche modo avessero trovato una maniera politicamente corretta per schifarci dopo il rifiuto, dopo il rifiuto, dopo i passi effettuati per l'uscita della Superlega e in realtà ragionandosi sopra mi sono detto no, non può essere così, in realtà abbiamo invece raggiunto l'apoteosi di una mentalità pazzesca, cioè nel senso che facciamo andare di corpo anche le altre squadre ancora prima di giocare. Ecco, questa è una battuta che mi sarebbe venuta, o si sono impressionati o l'ipotesi è l'altra, che è molto più... Immagino che faccia un gran caldo anche lì, e questi hanno detto ma dovevamo giocare tutta una partita in attacco, forse è meglio sederci dove più conviene. Ecco, quindi andremo a giocare poi col Milan e con Real Madrid, il prossimo appuntamento è venerdì mattina alle quattro e mezza, avversario appunto il Milan, si gioca la cinema in California, nei pressi di Los Angeles, però si giocherà al Vignity Sports Park di Carson e quindi per aspettare il debutto, dobbiamo aspettare il debutto stagionale ancora qualche giorno, massimo. Non credo che la camicchiavole verrà recuperata, noi come sempre vi abbiamo dato la notizia. Grazie Ezio, a presto. Grazie a te, buon proseguimento di serata a tutti quanti, a Hug. A Hug, come dici sempre tu.